Presidente Sardone, questa sera si presenta il Mr. Bruculeri, un nuovo progetto che parte per la stagione 2023-2024. Venga un attimino a definirci quali sono le fondamenta che porteranno a questa nuova stagione. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare i proprietari di Assur che ci hanno dato la possibilità oggi di fare questa bella manifestazione. Il solo fatto che siamo qui sullo stagnone, su un posto magnifico, secondo me è un'ulteriore chicca al nostro progetto. La scelta dell'allenatore importante l'avevamo da tempo comunicata, quindi riteniamo che sia la persona più giusta in questo momento per condividere con noi questo progetto importante nel corso degli anni e abbiamo anche qui mantenuto la promessa. È evidente che non ci siamo fermati, come ben sapete, all'allenatore, ma siamo andati già oltre, quindi con l'acquisto di giocatori importanti. A breve completeremo la rosa. È evidente che il dubbio che in questo momento anche della categoria rallenta un attimino il processo di contatto con i giocatori perché è la prima cosa che un giocatore chiede, a prescindere dal vile danaro, ha necessità di capire dove gioca e dove partirà la squadra. Quindi a breve noi scioglieremo, in funzione di quello che sarà la domanda di ripescaggio, la nostra sorte, ma qualsiasi categoria noi faremo, e mi auguro ovviamente la promozione, siamo convinti di poterla fare bene e al meglio. Ecco, questa piazza conosce bene il ministro Bruculeri perché in passato ha avuto degli ottimi successi anche dall'allenatore. Ecco, cosa si aspetta lei da il ministro Bruculeri? Diciamo che lui mi ha già dato delle risposte. Il fatto che lui abbia dichiarato pubblicamente e personalmente che sposa questo progetto per me è importantissimo perché oggi chi si è legato a questo gruppo ha veramente in mente di perseguire un percorso importante, ma non per noi, lo ribadisco ancora una volta, noi siamo fuori da qualsiasi interesse economico, ma per il bene della città. Quindi anche il ministro ha sposato questo progetto, mi aspetto grandi cose ovviamente, credo che la persona più giusta in questo momento potesse essere lui, che è un anello di congiunzione un po' tra il passato, il presente e il futuro. Noi non ci fermeremo ovviamente soltanto a degli scorci iniziali di collaborazione, noi vogliamo proseguire con lui per fare un progetto e portarlo a compimento insieme a lui. Quindi ci aspettiamo grandissime cose. Ecco, oltre al mister sappiamo che c'è un interessamento particolare di parecchie aziende che supportano anche questa nuova avventura. Ecco, ci può anticipare qualcosa? Ci vuole dire un attimino i profili di queste aziende, quale possono essere? Sì, allora, come già anche qui più volte enunciato, il rammarico più grosso è che la città, probabilmente giustamente, con diffidenza in questa fase ancora sicuramente smussata e ridotta, non ci sta seguendo come probabilmente ci aspettavamo. Ma siamo abbastanza fiduciosi che questo nel tempo accadrà. Attualmente gli sponsor importanti hanno già chiuso e firmato i contratti, quindi abbiamo un'azienda su tutte Pugliesi che ha investito veramente tanto economicamente per un progetto sicuramente legato al territorio, sicuramente legato allo sviluppo del marchio, ma fondamentalmente legato anche ai rapporti con il sottoscritto. Sul territorio però mi preme ringraziare le cantine FINA che con noi hanno già sottoscritto un accordo, iniziamo anche con FINA, come storicamente nei momenti importanti è sempre stato presente e quindi anche FINA per me oggi è veramente un grande fiore all'occhiello da poter portare sulla maglia. Ci sono altri sponsor siciliani, uno su tutti è DS, DS è una società che produce monouso che già con me a Marsala è venuta nel famoso campionato di serie D, quindi abbiamo ancora le panchine intitolate DS. E poi abbiamo un'azienda di Agrigento che produce un amaro innovativo, un amaro del coltello e produce anche dei servizi sulla coltelleria. Riteniamo veramente importante, io adesso ho nominato i più importanti, quindi a livello di Sicilia c'è anche un'azienda siciliana qui vicino che produce olio, abbiamo una ventina di sponsor importanti, quindi questo è stato già un bellissimo risultato, avere la possibilità di un minimo di credibilità legata al progetto, quindi oggi come ho detto ripetutamente partiamo da una categoria che la città non merita e le aziende che investono in questa categoria veramente non dico hanno fegato ma ci credono veramente.